E' stata approvata la nostra prima legge a 5 stelle in Lombardia, dopo tantissimi anni che non veniva neanche calendarizzata e tantomeno approvata una legge delle opposizioni, noi dopo 9 mesi siamo riusciti a portare in aula un testo di legge in linea con il nostro programma elettorale ed è stata approvata all'unanimità. Siamo entrati nelle istituzioni con la promessa che nessuno doveva rimanere indietro e con questo provvedimento andiamo proprio in quella direzione. La legge è rivolta alle piccole e medie imprese, a quelle aziende che non rientrano nella cassa integrazione straordinaria e alle aziende in crisi. Il nostro provvedimento è in funzione dell'integrazione del salario di lavoratori che si vedono ridotto l'orario di lavoro. Lavoriamo tutti, lavoriamo meno. A giugno quando abbiamo presentato la nostra proposta l'assessore al lavoro aveva detto che non avrebbe messo un euro sulla nostra legge, oggi ci troviamo con un finanziamento di 5 milioni di euro e un impegno da parte della giunta Maroni di metterci altre risorse in futuro se lo strumento funzionerà e noi siamo certi che lo strumento funzionerà. Abbiamo trovato il consenso di tutte le parti sociali e delle forze politiche attorno alla nostra proposta, l'abbiamo fatto raccogliendo le stanze che venivano dalle aziende e dai lavoratori e quindi ancora una volta il Movimento 5 Stelle si trova a lavorare in anticipo rispetto alla politica tradizionale.